...are di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Domenica 8 dicembre, Immacolata Concezione. È il 342esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 23 al termine. Il sole soggia alle 7 e 38 e tramonta alle 16 e 31. La luna si leva alle 11 e 36 e tramonta alle 23 e 10. Il Bailo, figura di ambasciatore e console della Serenissima a Costantinopoli, viene convocato dal Gran Visir. L'accoglienza è quella che il veneziano si aspettava, una dichiarazione di guerra e l'invito a lasciare la capitale turca entro 20 giorni. Le previsioni per domani. In montagna cielo parzialmente soleggiato per transito di nubi medio-alte, in pianura generalmente nuvoloso per nubi basse, foschie e nebbie diffuse durante le ore più fredde, ma localmente anche persistenti durante il giorno, specie dei settori centro-meridionali. Precipitazioni assenti, temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in calo in pianura, sulle zone montane valori stazionari o in lieve aumento, durante le ore più fredde, probabili gelate anche in pianura.